Nel corso del terzo trimestre del 2018 risultano 31 in provincia di Ragusa le imprese attive in più rispetto al 2017. Nello stesso periodo tra il 2015 e il 2017 si registrarono 328 attività scomparse. Questo è il dato incoraggiante fornito dalla CNA territoriale. Anche nell'ambito delle forme giuridiche risultano un totale di 4897 imprese individuali attive, di cui 864 sono società di persona e 332 società di capitali, mentre solo 32 gli altri modelli di impresa. Negli ultimi 4 anni infatti si registra una leggerissima diminuzione delle imprese attive in forma di società di persona, mentre le società di capitale sono in lieve aumento. Stabile risulta la percentuale di altri tipi di impresa. Sembrerebbe dunque visibile un segnale incoraggiante di ripresa per il tessuto imprenditoriale della provincia di Ragusa. Va detto anche che su 30.644 imprese attive nel terzo trimestre del 2018, 6.120 sono artigianali, il 20% del totale. Questo dato, spiega il responsabile del centro studi del CNA territoriale di Ragusa, Giorgio Stracquadario, colloca la città di Ragusa tra le province a maggior vocazione artigiana della regione in ambito nazionale.